Musica Pellegrinaggio giubilare delle confraternite in cattedrale a Chiavari, il Vescovo Alberto Tanasini chiede di rinnovare le opere di misericordia. Giubileo dei catechisti, il Papa ricorda che la mondanità spegne l'amore, occorre aprirsi agli altri, presenti in piazza San Pietro alcuni ragazzi di Rapallo. Pochi bambini e soprattutto pochi maestri per le scuole in Valdaveto, difficile trovare insegnanti disponibili a raggiungere le sedi montane, ancora da completare l'organigramma delle scuole medie. Concluso il Salone Nautico di Genova con un aumento di visitatori e di affari, si pensa già a come ampliare la manifestazione nel 2017. Verso due repuratori di vallata, Irene approfondirà costi e caratteristiche per un impianto a Aramaia e un secondo da collocare a Seriallo al porto di Lavagna o in colmata a Chiavari. Alla scoperta delle radici del villaggio della Ragazzo, domenica 9 ottobre una camminata tra Lavagna e Chiavari sui luoghi dove nacque l'opera fondata da Don Nando Negri. Vittorio Podesta, campione nello sport e nella vita, due targhe consegnate in sala consigliare a Chiavari all'Handbiker, vincitore di due medaglie d'oro alle Paralimpiadi a Rio de Janeiro. Calcio Serie B sconfitta a Mara per la Virtus Entella a Modena, battuta dal Carpi con un calcio di rigore dubbio per Plessi, l'allenatore Breda e il direttore generale Matteazzi. Signori all'ascolto, buonasera da Alberto Viazzi che conduce in studio questa edizione del telegiornale in regia Stefano Neuhold con l'assistenza di Giovanni Castello e di Cristian Vogni. L'apertura è dedicata a un avvenimento giocesano, una testimonianza antica e moderna di fede e di misericordia. Siamo parlando del tradizionale raduno giocesano delle confraternite che si è rinnovato a Chiavari, un appuntamento che quest'anno ha assunto un particolare significato con il pellegrinaggio alla cattedrale di Nostra Signora dell'Orto e il passaggio della Porta Santa. Partita dal sagrato della chiesa di Rupinaro, le 14 confraternite con i crocifissi hanno raggiunto processionalmente la cattedrale attraversando il centro storico. Il Vescovo ha invitato a rinnovare le opere di misericordia. Rinnovate il vostro impegno di misericordia. Le forme possono essere certamente diverse, ma non meno importanti. Nell'anno della misericordia riscoprire e rinnovare il proprio operato di solidarietà e volontariato, spinta e motore che secoli fa portarono proprio alla nascita delle confraternite. In occasione del XIX raduno diocesano, vissuto quest'anno come pellegrinaggio giubilare con il passaggio della Porta Santa, Monsignor Tanasini ha voluto lasciare questa consegna alle decine di confratelli e consorelle presenti in cattedrale a Chiavari. Aprire gli occhi e il cuore a chi è nel bisogno, diventare capaci di vedere chi si trova in difficoltà e non evitarlo o addirittura scartarlo. Fare come Gesù sulla croce, che apre le braccia all'amore di Dio, diventa strumento di misericordia. Quando portate il crocifisso, ricordatevi di questo. Non è semplicemente una processione, è una testimonianza. Non è semplicemente un esercizio di abilità, è un richiamo. Quattordici le confraternite presenti al raduno, che ha preso avvio dal sagrato della parrocchia di Rupinaro. Da qui si è snodata la suggestiva processione, accompagnata per tutto il percorso fino alla cattedrale da due ali di folla. Sette i crocifissi presenti, sorretti con fatica e devozione dai portatori, alcuni dei quali giovanissimi. Una volta dispostisi a semicerchio davanti al nuovo sagrato della cattedrale, i crocifissi sono stati accolti dal vescovo che li ha benedetti e poi hanno attraversato uno ad uno la Porta Santa. È molto bello questo, anche così da un punto di vista della cerimonia, però quello che è importante è che passino le persone, anche quelle che sono con i crocifissi, che si ha veramente un desiderio di entrare attraverso Gesù, che è la Porta Santa. Le immagini della croce che noi portiamo ci ricordano appunto che Gesù è il volto della misericordia del Padre, Gesù crocifisso. Per cui non solo c'è, come dire, un impegno tradizionale, ma veramente un desiderio di conversione, di mettersi in cammino con Gesù. Ora andiamo in Vaticano, dove si è svolto il Giubileo dei Catechisti. Erano presenti decine di migliaia di catechisti in Piazza San Pietro per la Messa, presieduta dal Papa. La missione è annunciare Dio amore incontrando le persone con attenzione alla loro storia e al loro cammino, ha detto il Pontefice. Davanti ai tanti poveri che vediamo, siamo chiamati a inquietarci e a trovare vie per incontrare e aiutare, senza delegare o rimandare. Questi i passaggi principali dell'Omenia. E adesso con il servizio che segue parliamo invece dell'Angelus, sempre presieduto dal Pontefice in Piazza San Pietro. Vivere ed annunciare il comandamento dell'amore, superando la cecità dell'apparenza e le tristezze mondane per essere sensibili ai poveri, che sono una pagina centrale del Vangelo e non un appendice. Celebrando il Giubileo dei Catechisti in Piazza San Pietro, il Papa ha riflettuto sulla parabola dell'uomo ricco che non si accorge del povero di nome Lazzaro. Di qui l'invito di Francesco ad accorgersi del prossimo. Chi vive per sé non fa la storia e un cristiano deve fare la storia, deve uscire di se stesso per fare la storia. L'insensibilità di oggi scava abissi invancabili per sempre. E noi siamo caduti in questo mondo, in questo momento, in questa malattia dell'indifferenza, dell'egoismo, della mondanità. Il ricco non vede oltre la porta di casa sua, non vede con gli occhi, ha detto il Papa, perché non sente con il cuore. La mondanità è come un buco nero, che ingoia il bene, che spegne l'amore, perché fagocita tutto nel proprio io. Francesco ha esortato ad imparare dalla povertà di Lazzaro, che si esprime con grande dignità, senza lamenti, proteste o parole di disprezzo. Siamo chiamati a non ostentare apparenza e a non ricercare gloria. Nemmeno possiamo essere tristi o lamentosi. Non siamo profeti di sventura, che si compiacciano di scovare pericoli o deviazioni. Non gente che si trincera nei propri ambienti, emettendo giudizi amari sulla società, sulla Chiesa, su tutto e tutti, inquinando il mondo di negatività. Il Papa ha ricordato il sacerdote tedesco Engelmar Unzeitich, beatificato in Germania, vittima delle persecuzioni naziste. Ha poi richiamato il dramma delle violenze che affliggono il popolo messicano e infine ha rivolto un saluto speciale per la giornata mondiale del sordo. Alla messa del Papa, per il Giubileo dei Catechisti, era presente anche un gruppo di ragazzi di Rapallo, guidati dal neovicario della Basilica dei Santi Gervasio e Protasio, Don Matteo Prettico. Per tutti è stata un'esperienza entusiasmante, con tanti spunti su cui riflettere. Sentiamo Don Prettico. Quali aspetti di ciò che ha detto il Papa vi sono rimasti più impressi? Innanzitutto il Papa ha detto una cosa molto semplice, ma forse talvolta un po' trascurata, che la Catechesi ruota anzitutto intorno a un punto, ossia annunciare Gesù risorto. E questo, già dicevo, sembra qualcosa di trascurato, ha detto il Papa, ma anche di trascurato quasi di omesso, perché, sai, si punta molto ai sacramenti, si punta molto a trasmettere delle nozioni, quando invece l'unica nozione da trasmettere è il fatto che Gesù è risorto. Ed è il motivo della gioia della nostra fede, quindi anche se per contagiare questa gioia, e quindi poi ragganciandosi anche alle letture di ieri, il Papa ha detto che, mentre l'annuncio di Gesù risorto, c'è il fatto che si annuncia un Dio che ci ama personalmente, ha detto il Papa. L'annuncio di un Dio che mi ama personalmente è la base di ogni annuncio catechistico. Qual è la sfida adesso per l'anno catechistico che si apre e si apre anche in Diocesi? È quella di annunciare il fatto che noi siamo Chiesa, che non viviamo da soli, ma che viviamo dentro un grande cammino condiviso. E appunto il fatto di iniziare ieri con un incontro che ha coinvolto tutto il mondo, tutta la Chiesa, la Chiesa, questo è importante. E poi naturalmente proseguire nel lavoro fatto sin d'ora, quindi di portare un'esperienza, un'esperienza vera, autentica, di fede. Il catechista deve essere l'uomo che dona la fede attraverso la sua fede personale, attraverso la sua esperienza, non un semplice professore che spiega una materia, ma deve essere un testimone. E questo forse credo che sia la grande incombenza che aspetta in questo anno catechistico a tutti i catechisti della nostra diocesi, ma di tutta la Chiesa. Ancora una notizia ecclesiale, la troviamo sul sito internet di Avvenire. Il Cardinale Bagnasco c'è bisogno di più Europa. Così l'Arcivescovo di Genova ha aperto il Consiglio Permanente della CEI, parlando di migranti, l'Italia ancora troppo sola, della crisi economica e degli interrogativi aperti dall'eutanasia in Belgio. All'interno si trova il testo integrale dell'intervento del Cardinale Bagnasco. Siamo ora ai temi di carattere locale e apriamo con un grave episodio. Un uomo di 55 anni è stato trovato privo di vita questa mattina nel cortile di una azienda Ane in Val Graveglia. Sul posto i medici del 118 e i carabinieri. L'uomo, Marco Raibaudo, è stato trovato intorno alle ore 8.30 dal fratello, che è anche il titolare della ditta, la Hogar di Via Garibaldi. Dopo gli accertamenti, i militari della compagnia di Sestri Levante hanno confermato che l'uomo era caduto dal tetto del Capannone, dove si era recato ieri sera per un intervento di manutenzione. La tettoia in plastica ha però ceduto e il volo è stato di alcuni metri. L'anziana madre, con la quale l'uomo viveva, non si è insospettita. Per il mancato rientro a casa del figlio, ha detto il comandante dei carabinieri Massimo Esposito, questa mattina invece c'è stato il ritrovamento da parte del fratello. La vittima era un dipendente dell'azienda, ma con il fratello di fatto erano titolari, ha aggiunto Esposito, e questo non dovrebbe comportare problemi con l'ispettorato del lavoro. Ancora per la cronaca, un furto in abitazione è avvenuto nelle ore serali a Rapallo. I noti hanno forzato una finestra e sono entrati nell'appartamento di una donna di 37 anni. Hanno rubato numerosi capi di abbigliamento, oggetti in oro, due orologi marca Rolex e denaro contante. La donna ha fatto denuncia ai carabinieri, le indagini sono in corso. In località Parazzuolo a Rezzoaglio i carabinieri hanno sottoposto a controllo un ragazzo di 22 anni di Santa Margherita Ligure e le hanno trovato in possesso di una modica quantità di marijuana per uso personale. Il giovane è stato segnalato quale assuntore e la droga è stata sequestrata. Pochi bambini e soprattutto pochi maestri. Anche quest'anno si presenta il problema dell'organizzazione delle scuole in Val Daveto. Tanto a Rezzoaglio quanto a Santo Stefano Daveto per quest'anno scolastico ci sono 10 bambini alle scuole materne e due pluriclassi per le elementari. Le scuole medie sono unificate a Rezzoaglio, gli alunni nelle tre classi sono complessivamente 35. Per un'eventuale futura unione delle due scuole della Val Daveto sarebbe necessario ampliare il servizio di trasporto scolastico. Sentiamo il preside reggente Glauco Berrettoni. In prospettiva futura il fatto di unificare le scuole di Rezzoaglio e di Santo Stefano Daveto in un unico plesso consentirebbe la formazione di classi complete o no? Attualmente stando ai numeri no perché potrei garantire una pluriclasse, prima e seconda, una terza, una quarta e una quinta. Teniamo presente che far scomparire completamente un plesso in un paese non è una decisione che può prendere un dirigente da solo. Chiaramente spostarla senza garantire un adeguato miglioramento del servizio non avrebbe senso. Per quest'anno riusciamo a garantire le cose come negli anni passati. Poi vediamo, vediamo come vanno le cose. Dal punto di vista dei maestri, allo stato attuale quindi quanti sono i posti coperti e quali sono ancora in attesa di copertura? Allora, anche negli anni passati passava circa un mesetto prima di garantire il servizio completo. Abbiamo completato l'infanzia sia a Rezzo che a Santo, abbiamo completato la primaria sia a Rezzo che a Santo, abbiamo garantito adesso una metà dei posti disponibili nella secondaria. Chiaramente stiamo andando, ma come negli altri plessi, anche a Carasco, anche a Mezzanego, anche a Borzonasca, a orario ridotto ancora per questa settimana proprio per evitare buchi di insegnanti. Come potrebbe essere superato questo problema? A costo zero per lo Stato, semplicemente come una volta garantendo un punteggio doppio per gli insegnanti che lavorano nelle zone di alta montagna, come c'è nelle piccole isole. I maestri di Rezzo Aglio di Santo Stefano Davito da dove provengono adesso? Allora, purtroppo con i recenti pensionamenti non abbiamo soltanto un caso, due, di insegnanti in loco. Gli altri vengono dal Chiavarese, vengono dalle frazioni vicine. Però chiaramente mano a mano ci allontaniamo da Rezzo Aglio di Santo Stefano, i problemi aumentano, non c'è poco da fare. Il Salone Nautico 2016, che si è appena concluso a Genova, ha fatto registrare un aumento del 9,2% di visitatori rispetto all'anno precedente. Sono stati 126.178 i passaggi alle biglietterie, di cui 33.000 per visitatori stranieri. Lo scorso anno i visitatori sono stati 115.000. Anche il volume di affari in questa 56esima edizione del Salone Nautico è cresciuto di circa il 17% rispetto al 2015. La presidente di Ucina, Carla De Maria, ha confermato che il Salone Nautico anche nel 2017 si terrà a Genova. È ancora da stabilire la durata. Quest'anno ridotta a sei giorni, c'è chi la vorrebbe riportare a dieci giorni e chi la vorrebbe ridurre a cinque. Tra le ipotesi in discussione c'è anche quella di realizzare due saloni a Genova con alcune manifestazioni decentrate nel Tiguglio. Per tornare a dare rilievo alla manifestazione, Ucina sta cercando un accordo con Nautica Italiana, l'associazione che si è staccata e che non ha partecipato al Salone di Genova. Già domani è in programma un incontro al Ministero dello Sviluppo Economico. Per un'analisi abbiamo intervistato telefonicamente Umberto Capelli, presidente Ucina, per imbarcazioni sino ai 20 metri. La soddisfazione è data soltanto dal numero dei visitatori oppure anche da un mercato della Nautica che si sta muovendo? Direi entrambe le cose, perché è stata una progressione questa fiera e tutti gli operatori poi alla fine sono rimasti molto contenti. Quindi c'è stata più affluenza, ma soprattutto quello che interessava a noi era avere più contatti con dei potenziali acquirenti. C'è qualche progetto che prevede un ampliamento del Salone Nautico di Genova? Stiamo discutendo proprio di questo. Innanzitutto il primo obiettivo è quello di ricompattare anche quest'altra associazione che è uscita da Ucina e quindi di poter insieme discutere per poter fare come eccellenza della Nautica italiana, ma a tutti i compatti, un Salone che l'anno prossimo sia sicuramente più importante e più grande per come lo è il nostro settore come leadership a livello mondiale. E in merito alle manifestazioni nel Tiguglio? In merito alle manifestazioni nel Tiguglio stiamo discutendo di questa opportunità per poter poi tutti insieme, l'obiettivo è tutti insieme con tutti i cantieri e anche con l'altra associazione, poter fare un Salone o più Saloni per il 2017. Abbiamo sentito Umberto Accapelli, presidente dell'Ucina per le imbarcazioni sino ai 20 metri. Parliamo adesso della questione dei depuratori nel Tiguglio. Oggi a Genova c'è stata l'attesa riunione tra i sindaci e il consigliere incaricato della città metropolitana Enrico Pignone. Si fa largo l'ipotesi di due impianti di vallata. Sembra sempre più vicina la possibilità di realizzare due depuratori per la zona del Tiguglio centrale e orientale. Uno a Sestri Levante in località Ramaia, sito candidato dall'amministrazione comunale per un impianto per la zona di Sestri e della Val Petronio. L'altro in un'area che sarà scelta fra la piana del Serriallo a Levi, la zona del porto di Lavagna e quella della colmata di Chiavari. La città metropolitana ha incaricato IREN di valutare aspetti tecnici e costi per le tre diverse ipotesi. È questo in sintesi quanto emerso dall'incontro che si è tenuto a Genova fra gli amministratori del Levante e il consigliere incaricato all'ambiente della città metropolitana Enrico Pignone. I sindaci hanno presentato due ipotesi di localizzazione dell'impianto per il solo bacino dell'Entella. La piana di Serriallo a Levi e il porto di Lavagna. A queste Pignone ha aggiunto l'ipotesi di Chiavari e su tutte e tre ora sarà realizzato un approfondimento di natura tecnica ed economica. IREN inoltre verificherà la fattibilità del depuratore di Ramaia per la zona della Val Petronio. Pignone aveva chiesto che entro oggi venissero presentate le alternative possibili. Quale condizione per fermare l'iter amministrativo già iniziato per realizzare nella colmata di Chiavari un grande depuratore comprensoriale unico da 210.000 abitanti al servizio non solo del bacino dell'Entella ma anche della Val Petronio e di Sestri Levante, ipotesi fin da subito contestata in primis da Chiavari. Una volta che IREN avrà fatto le sue valutazioni, Pignone convocherà in città metropolitana una conferenza dei sindaci per presentare il progetto dei due impianti separati Valle dell'Entella da una parte e Val Petronio, Sestri Levante dall'altra, informando dunque sui costi dell'intera operazione. Secondo quanto rimarcato dalla città metropolitana, infatti, il costo del doppio impianto sarà maggiore rispetto a quello dell'impianto unico. Un'ultima nota riguarda l'area della piana del Seriallo, verso cui spinge Chiavari. Il sindaco di Leivi, Vittorio Centanaro, ha presentato questa mattina in città metropolitana uno studio realizzato da un professionista indipendente che mette in luce come si possa superare l'attuale vincolo della zona rossa. La proposta di legge regionale sul riordino del sistema balneare è stata presentata oggi alle associazioni di categoria. Nel corso della presentazione l'assessore Marco Scaiola ha ribadito che la regione Liguria intende chiedere la convocazione del tavolo delle regioni con il ministro Costa per cercare di ottenere da parte del governo la predisposizione di una legge delega nazionale che metta fine alle questioni. Vi abbiamo parlato della protesta degli abitanti di Valletti che sabato sono andati a Genova per una frana che dal mese di febbraio scorso è ancora irrisolta. Adesso c'è un intervento dell'assessore della protezione civile della regione Liguria Giacomo Giampedrone. La regione è già in campo da tempo per validare il progetto del comune e quindi ha spiegato l'assessore Gianpedrone che il comune di Varese e Liguria nei prossimi giorni sarà incontrato dalla regione per gli approfondimenti tecnici richiesti e poi successivamente si potranno effettuare ulteriori valutazioni. Quindi la pratica è in corso secondo l'assessore regionale. Ricordiamo questa sera il Consiglio Comunale di Chiavari con inizio alle ore 21 per discutere numerose mozioni presentate dai gruppi di minoranza. E ora facciamo un passaggio storico perché è in programma una passeggiata rievocativa per la nascita del villaggio della Ragazzo da Lavagna a Chiavari domenica 9 ottobre. Esattamente il 10 ottobre 1946 è stato firmato il contratto di affitto di Villa Angelo Parma che è situata in Corso Buenos Aires a Lavagna e Don Nando Negri. E' stato questo il primo passo per realizzare il progetto voluto dal Vescovo di Chiavari Amedeo Casabona per dare corso all'iniziativa Salviamo un Fanciullo. Oggi parzialmente le cose sono cambiate ma i bisogni del territorio sono sempre tanti e quindi davvero vorremmo come tornare indietro per imparare a vivere presente. Una camminata allegra e gioiosa per ritrovare i luoghi in cui affondarono e crebbero le radici del villaggio del ragazzo e incontrare qui le persone che proprio 70 anni fa furono in qualche modo toccate e trasformate dall'opera di Don Nando. L'appuntamento è per domenica 9 ottobre alle 9 davanti al cancello d'ingresso di quella che fu Villa Parma il cui contratto di affitto del primo piano fu firmato proprio da Don Nando il 10 ottobre del 1946. Sul muro di Cinta dei Giardini di Corso Buenos Aires sarà posta e benedetta dal Vescovo una targa che spiegherà brevemente la storia dell'opera diocesana Madonna dei Bambini. Dopo partirà una marcia che raggiungerà dopo Villa Parma il Conservatorio delle Giannelli di Amare e Casa Carita Sarupinaro. Questo è il primo e ci sarà il Vescovo a benedire la targa che dice 70 anni fa qui è nato il villaggio del ragazzo. Poi partiamo con la banda e facciamo una bella scorribanda per Lavagna fino ad arrivare alle Giannelli di Amare dove oggi c'è la RSA e lì c'era la sede dal 48 mi pare maschile dei ragazzi perché l'accoglienza ha dato bisogno subito di allargarla e poi arriviamo a Casa Carita Sarupinaro via Marana dove c'erano invece le ragazzine di Chiavari. Alle 12 sarà celebrata la Santa Messa del Monsignor Giulio Sanguinetti nella parrocchia di San Giacomo di Rupinaro una festa di ringraziamento a cui tutti sono invitati ma che vuole coinvolgere soprattutto i testimoni dei primi anni di vita del villaggio. Ora se queste persone magari non ce la fanno a fare la passeggiata possono aspettarci nei luoghi che hanno frequentato e li ritroviamo volentieri. In ognuno di questi luoghi, di queste sedi del villaggio ci sarà uno di loro che come testimonia racconterà brevissimamente quello che si faceva in allora. Intanto il villaggio della Ragazzo si prepara a festeggiare il settantesimo anno di attività con il pranzo per i senza fissa dimore e per i poveri. L'appuntamento è per sabato 1 ottobre a mezzogiorno. Quest'anno la sede non sarà il centro Franco Chiarella dove si stanno svolgendo i lavori per il nuovo dormitorio ma sarà il centro di San Salvatore di Cogorno. Per le prenotazioni e per dare la propria disponibilità come volontari si può prendere contatto con la segreteria del villaggio della Ragazzo a San Salvatore di Cogorno. Numero telefonico 0185 37 51. Molti escursionisti hanno preso parte alla passeggiata lungo i sentieri dell'isola della Palmaria organizzata dal Parco regionale di Porto Venere, dal Parco nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano e dall'Associazione Mangia Trekking. L'iniziativa rientra nel progetto Parchi di Mare della Montagna Appenninica. L'itinerario si è svolto seguendo le indicazioni contenute nel libro Progetti integrati per le antiche fortificazioni costiere di Piero Pesaresi in cui vengono descritte le opere fortificate della Palmaria. Passaggi interessanti nel percorso sono stati l'osservazione della fauna dell'isola, una degustazione di prodotti tipici alla batteria semaforo, oggi adibita a Ostello, la descrizione del funzionamento del faro dell'isola del Tino e una piacevole sosta alla Baia del Pozzale. Nell'itinerario sono state osservate le piante illustrate da Chiara Piaggio ed è stata presentata la storia del lavoro nelle cave di marmo nero e nelle grotte dell'isola con gli interventi di Marco Cuttica e di Gian Paolo Camolei. Una delegazione partita da Sestri Levante ha trascorso alcuni giorni a Dole, la città francese gemellata dal 1983. La visita ha coinciso con il fine settimana Gourmana du Chapeurche, una manifestazione che riunisce chef stellati, sommelier francesi e il miglior mastro formaggiaio di Francia. La grande partecipazione di pubblico è stata quindi un'occasione speciale di promozione turistica per Sestri Levante. La cooperativa Olivicoltori Sestresi ha presentato alcuni prodotti tipici, mentre lo chef Alessandro Dentoni ha preparato diversi piatti. L'associazione Bagnuna ha proposto la sua specialità ed è stata allestita anche una mostra fotografica a cura dell'associazione Carpe Dieme che ha registrato oltre 2000 visitatori. Ora sfogliamo l'agenda degli appuntamenti con Emanuela Castello. Martedì 27 settembre sarà consegnato a Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure il premio Isaia Berlin all'archeologo Andrea Carandini. La cerimonia avrà inizio alle 11 e prevede una conferenza di Massimo Bacigalupo su Carandini e Berlin. Il premio sarà consegnato da Roberto Sinigaglia, presidente del Centro Internazionale di Studi Italiani. Gatto chi legge è il titolo del ciclo di incontri di approfondimento culturale per insegnanti, genitori, giovani e adulti che si tiene a Cogorno. Sul piazzale della Basilica di San Salvatore dei Fieschi, dalle 16 alle 18, Walter Fochesato, studioso di letteratura e comunicazione visiva, presenterà il suo libro Il gioco della guerra, l'infanzia nelle cartoline del primo conflitto mondiale. Non c'è business senza rete, tutto quello che non vi hanno detto su e-commerce, privacy, social network e marketing digitale. Se ne parla Chiavari alle 17 nella sede di YLab in via Gagliardo. Gli esperti di LCA, studio legale con sedi in Italia e all'estero specializzato nell'assistenza alle imprese e Simon Beckerman, fondatore di The Pop, applicazione per l'acquisto di abiti online, spiegheranno come sfruttare al meglio la rete e tutelarsi dai rischi che comporta. Fino all'8 ottobre, nello spazio espositivo della tipografia Colombo in via dell'Orso a Chiavari, è allestita la mostra fotografica contaminazioni di LIA Gniecco. Gli orari dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19. Siamo ora allo sport, un lungo applauso nella sala consigliare di Chiavari per il campione di handbike Vittorio Podestà. Di ritorno da Rio de Janeiro con due medaglie d'oro, il Chiavarese è stato accolto festosamente nella sua città che ha seguito con attenzione e affetto le sue imprese nelle Paralimpiadi brasiliane. Chiavo e ringrazio Vittorio Podestà, vincitore del primo medaglie d'oro della Paralimpiade del Rio 2016, grande campione e, e qua giunto io soprattutto, uomo straordinario. Grazie. Vittorio, complimenti. Grazie, grazie. Grazie, fa piacere ricevere i complimenti perché vuol dire che si è fatto un bel lavoro. Poi, quando c'è anche la prova di quello che si è fatto, che sono due medaglie d'oro, è bello, molto bello. Io devo dire che ho sempre avuto un certo seguito qua, le persone mi riconoscono, pensare di essere sul secolo già per molto tempo è stato qualcosa di emozionante per me. Adesso arrivarci ed essere premiato per una medaglia d'oro olimpica, anzi, per due medaglie d'oro olimpiche sicuramente è molto bello. Ci hai sempre creduto, ma credo che non sia stato facilissimo. Beh, vincere non è mai facile, non l'ho mai stato, anche quando era andato tutto bene. Quest'anno, purtroppo, fin dall'inverno è stato un anno un po' travagliato, con tanti problemi fisici. È ancora più bello perché sono riuscito a vincere dopo tante difficoltà e essere riuscito a superarle dà un valore aggiunto a quello che ho fatto. Hai sicuramente qualche dedica alla tua famiglia, a tua moglie? Beh, sì, la dediche soprattutto a mia moglie, perché lei non prende le medaglie, ma ha almeno il 50% dei meriti. Lo dedico ai miei allenatori. Dietro di me c'è una squadra, non tanto grande, ma una squadra di persone che sono quasi più contenti di me quando vinco. Perché sicuramente il lato umano qua è più preponderante, di conseguenza tocca più il cuore delle persone. Calcio Serie B, la Virtus Entella torna da Modena con zero punti. La sconfitta con il Carpi 2-1 però è dovuta a un calcio di rigore concesso dall'arbitro ai padroni di casa che ha lasciato l'amaro in bocca ai bianco celesti. La partita di Modena è stata decisa da un calcio di rigore a favore del Carpi, assegnato al venticinquesimo della ripresa dall'arbitro Capuano per un atterramento in area di Crimi ad opera di Sini e trasformato da bianco con un tiro angolato. La decisione ha lasciato perplessi l'allenatore della Virtus Entella Roberto Breda e soprattutto il direttore generale Matteo Matteazzi. Qualcosa mi sento che mi manca, però a di questo devo pensare alla partita, le cose che abbiamo fatto bene e quelle che dovevamo fare meglio. Non era facile perché poi la partita si è messa in un binario congeniale al Carpi che è molto bravo nelle ripartenze. Noi abbiamo sempre mantenuto l'equilibrio, siamo riusciti a rimanere in partita. Da là è peccato perché qualcosa potevamo portare a casa. Non ci siamo riusciti, bisogna fare anche i complimenti al Carpi e noi trasformare questo senso anche di insoddisfazione in voglia di fare ancora di più è meglio perché abbiamo tutto per far bene, la prestazione è positiva, da là dobbiamo essere ancora più convinti e più concreti. Un errore molto grave che ha condizionato la partita e nel momento cruciale quando abbiamo pareggiato ha dato la possibilità al Carpi di riportarsi in vantaggio. Insomma siamo molto rammaricati perché la squadra ha giocato una buona gara e l'errore è talmente grossolano che non ti può non lasciare la mare in bocca. I padroni di casa erano passati in vantaggio al sedicesimo del primo tempo con un tiro da fuori area di Crimi sul passaggio di Lasagna. Il pareggio degli ospiti era arrivato al ventiduesimo del secondo tempo con un colpo di testa da distanza ravvicinata di Caputo che correggeva la traiettoria di Sini. I biancocelesti dopo i due svantaggi hanno avuto una fase di sbandamento per poi rimettersi in carreggiata ma nonostante l'impegno non sono più riusciti a raddrizzare la gara. Se devo dire un difetto di questa gara a parte nostra è stato quello che dopo entrambi i due gol abbiamo avuto sempre un momento di smarrimento e dopo comunque ci siamo giocati le nostre chance nel finale potevamo nuovamente pareggiare con l'occasione che si è procurato Caputo grazie alla sponda di Beretta. Per il campionato di calcio di serie D la quarta giornata nel girone E ha proposto il derby tra Sporting Recco e Sestri Levante. La vittoria è andata ai Corsari che si sono affermati per tre gol a zero a segno Oneto al 46esimo, Boister su calcio di rigore al 79esimo e Bondi al 93esimo. Sconfitta a Casalinga per la Lavagnese che ospitava la Massese. I bianconeri passati in svantaggio al 31esimo del primo tempo con un autogol di Gavellotti hanno raggiunto il temporaneo pareggio al 39esimo con la rete di Fonioc al 33esimo della ripresa e arrivata la rete di Biaschi che ha portato il risultato sul definitivo 2-1 per la Massese. In classifica Sestri Levante in seconda posizione a 7 punti, Lavagnese 4 punti, Sporting Recco 2. La Chiavari nuoto al completo, prima squadra, allenatori e dirigenti hanno presenziato in Piazza delle Carozze a Chiavari alla giornata ADMO organizzata per sensibilizzare la popolazione sull'importanza della donazione del midollo osseo. Tutta la squadra è stata invitata sul palco. Il presidente Danilo Ghio ha spiegato al pubblico l'importanza di essere donatori. Subito dopo la squadra ha dato prova dell'impegno. Pur senza alcuna direttiva societaria, gli atleti si sono messi in coda per effettuare la donazione. Prima di chiudere, un aggiornamento di carattere nazionale sul sito dell'ANSA è stata fissata la data per il referendum costituzionale. Come previsto si tratta del 4 dicembre. A tale riguardo c'è anche una raccomandazione da parte del Cardinale Bagnasco sempre nell'ambito del Consiglio Permanente della CEI Cittadini, informatevi di persona per votare quindi senza farsi condizionare dagli schieramenti politici. Questa sera dopo il telegiornale trasmetteremo una conferenza che si è svolta nell'ambito del meeting di Rimini organizzato da Comunione e Liberazione. Un convegno dedicato a Madre Teresa di Calcutta, una santa del nostro tempo. L'informazione tornerà domani con il TG13 a partire dalle ore 12.45 alle ore 7.30 e buongiorno di Teleradio Pace con Marco Revello. A tutti grazie dell'attenzione e buon proseguimento di serata. Grazie a tutti.